Sì, il 5 maggio a Clusone ci sarà un convegno inerente alla diagnosi e la cura del tumore alla mammella. È una patologia purtroppo molto diffusa in Italia, se ne registrano oltre 30.000 nuovi casi ogni anno e purtroppo di questi mille sono soltanto i nuovi casi di tumore al seno in provincia di Bergamo. Dunque sentiamo viva l'esigenza, la necessità di promuovere questi incontri di informazione per la popolazione generale. Invitiamo tutti a partecipare per conoscere quelli che sono gli ultimi dati della ricerca, ma soprattutto le nuove procedure diagnostiche e terapeutiche che riguardano il tumore al seno. Questo tipo di congresso è rivolto oltre alla popolazione generale, ai medici di medicina generale che vogliono partecipare, illustrerà in particolare quelle che sono anche le prospettive future di terapia e si sarà incentrato su una relazione prettamente chirurgica, affiancato poi dopo da una relazione di tipo oncologico-medico. Il moderatore sarà il professor Giuseppe Nastasi e l'altro relatore oltre a me, il dottor Cotroneo, entrambi oncologi. Chiaramente l'interesse è notevole e l'invito è dunque esteso a tutti. Ma quali sono gli appuntamenti successivi? La nostra delegazione della Valseriana per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è molto attiva, soprattutto nel mese di maggio quest'anno. Abbiamo infatti in calendario anche il 13, una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei melanomi, per cui ci sarà uno specialista che visiterà gratuitamente le persone che lo richiederanno. Inoltre il 31 aderiremo a quella che è la campagna nazionale per antifumo. Sottolineiamo come il fumo sia assolutamente da combattere ad ogni livello. Abbiamo negli anni scorsi e anche in progetto futuro affrontato il problema già con le scolaresche delle scuole primarie, con buoni risultati. Quindi seguiamo questa strada e ci prefissiamo l'obiettivo, come sempre, di informazione estesa a tutti.